Terziario Donna, associazione di CovCommercio Marche Nord dedicata a sviluppo e tutela dell'imprenditoria femminile, ha una nuova presidente. Si tratta di Claudia Parmegiani che succede a 22 anni di presidenza di Patrizia Caimi. Un'elezione del nuovo consiglio direttivo avvenuta questa mattina nell'ambito dell'assemblea annuale che ha eletto anche la stessa Caimi in qualità di presidente onoraria. Emozionata, piena di gioia, di orgoglio, un bel senso di responsabilità perché insomma prendo il posto di una super presidente, quindi Patrizia Caimi, passa a me le redini e mi riempie di orgoglio, di felicità ma anche di impegno. Colgo l'occasione per ringraziare Patrizia Caimi che con grande amore e impegno per ben 20 anni è riuscita ad essere reti fondamentali tra le imprenditrici della provincia di Pesaro Urbino, realizzare eventi, convegni e momenti di formazione straordinari. Imprenditrice dell'azienda Vesti il Lavoro, Claudia Parmegiani sarà presidente di un consiglio direttivo che sarà composto da Stella Scarpa e Elisa Scola come vicepresidenti, oltre a Valentina Arsenia, Dele Cerisolio, Alessia Tambosteva, Martina Carloni, Emanuela Rossi, Sara Muratori, Sabrina Cosima Fortunato, Alessia Morelli e Deborah Papisca. Terziano Donna è un gruppo che supporta le imprenditrici, quindi tutte le imprenditrici della provincia di Pesaro Urbino possono rivolgersi a noi, Terziano Donna, del gruppo di Commercio Marche Nord e facciamo rete, facciamo associazione, cresciamo informazione ed esperienze.